Se io potessi fare qualcosa in più, ma qualcosa che dico io, una pastia da far prendere alla gente, che la renda tutta quanto sorridente, bisogna fare qualche cosa perché non si può più guardare tutte lì con quelle facce sempre giù. Grazie a tutti. Che cosa perché così non va, non si vive più con quelle facce sempre giù. Sono vent'anni ma io lo canto ancora, non è protesta ma verità. E lui l'avevo detto, state attenti, e l'ha detto quasi due millenni fa. Bisogna fare qualche cosa, ma che canzone è che sto cantando io e non cantando insieme a me. Ciao. 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 Ciao.